Passata la fase più acuta della pandemia, non diminuiscono gli infortuni sul lavoro di tipo tradizionale. Per l'INAIL le denunce nel 2021 sono state 564.089, in aumento del 20% da un anno prima, escludendo i casi di contagio da Covid. 1361 i decessi denunciati, in aumento del 10% sempre al netto del Covid. Il Presidente dell'INAIL, Franco Bettoni, presentando la relazione annuale alle autorità, tra cui il Ministro del Lavoro Orlando, ha sottolineato il ruolo del PNRR per migliorare sicurezza e prevenzione. Ascoltiamo cosa ha detto. L'Istituto, consapevole del ruolo affidato dal sistema del welfare italiano, ha messo a disposizione del proprio patrimonio di competenze e esperienze nella sfida per l'attuazione del PNRR. Coniugando le finità generali con la missione istituzionale di diffusione della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.